allora buongiorno eccoci qua oggi è sabato e tanto per cambiare ho problemi di linea quindi buongiorno a tutti speriamo di farcela dunque oggi ho deciso di invitare claudia per farci un po un aggiornamento della raccolta praticamente della vendita dei share impact per l'iniziativa dell'ex elior ricordo che l'ex elior sarebbe il l'estensione a livello internazionale della elior claudia poi mi dici se dico delle cose corrette oppure meno correggimi pure e io ricordo ricordo che ho iniziato in particolare il rapporto di collaborazione con lei come idea proprio sul progetto internazionale ricordo che me ne parliamo un attimo e dissi quando il progetto internazionale parte fammelo sapere perché sarei particolarmente interessato poi abbiamo abbiamo deciso di iniziare la collaborazione anche insomma per conoscerci anche un pochino meglio con la elior che va bene però ecco questa è una cosa importante io l'ho fatto perché cosa succede succede che una persona che ha il piano b in due parole piano b attivato e decide di trasferirsi all'estero cosa fa prende i soldi li trasferisce dove si va dove va non ha importanza dove va e da lì compra oro in svizzera capite e non c'è più praticamente più transazione in italia e questa è una cosa molto importante perché poi quando uno è all'estero come nel mio caso da tanti anni poi dopo un po si perdono le tracce cioè io io faccio ho dovuto fare la dichiarazione dei redditi perché c'è ancora dei beni in italia e c'è questa disposizione per cui devi pagare le tasse lì va bene se no se sarei proprio proprio una persona completamente diciamo fuori ormai no dal sistema almeno italiano bene questa è una cosa molto importante che deve se qualcuno ci sente e per dire va con Flavio in Paraguay benissimo non ci sono problemi però il diciamo questa organizzazione che ho messo insieme io soprattutto per l'acquisto dell'oro è proprio indirizzata a tutti coloro che vogliono programmarsi la vita all'estero e comunque poter investire in oro detto questo spero di essere stato chiaro ovviamente sono a disposizione se qualcuno poi mi vuole contattare le spiego meglio le cose a questo punto Claudia darei la parola a te prenditi pure tutto il tempo che vuoi e grazie di essere a disposizione prego Claudia grazie grazie a te Massimo buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutte voi bentrovati e grazie per la tua ospitalità Massimo che è sempre un grande piacere per me poterti veramente affiancare no in questo progetto passatemi il termine salvifico proprio come stava spiegando Massimo di uscire un po dagli schemi dai radar quelli che non ci vogliono particolarmente bene quindi diciamo che lo strumento di cui vi ha accennato Massimo che già ne abbiamo parlato altre volte fa parte proprio di questa possibilità di poter trovare e costruirsi la propria serenità in modo indipendente ecco diciamo così non dico oltre ma ci siamo capiti tutti in modo in modo perfetto immagino quindi Massimo se sei d'accordo io rifarei un attimo il punto della situazione un breve riassunto sull'opportunità exterior magari anche per coloro che non la conoscono o magari ne hanno sentito parlare in modo marginale affinché possiamo come dire fornire ulteriori informazioni e innanzitutto grazie grazie mille Massimo e in sostanza l'opportunità exterior è una modalità innovativa e molto interessante per poter entrare nel mondo dell'oro fisico da investimento svizzero in un'ottica di diversificazione anche come modalità e diciamo che la cosa interessante è che è anche al di fuori del semplice acquisto di lingotti quindi in questa fase in questa cosiddetta fase di prelancio c'è questa opportunità attraverso la possibilità di acquistare in prelancio quindi questo accadrà fino al 4 di dicembre degli sharing pack cioè noi possiamo voi potete io ho già aderito come fondatrice in realtà in modo importante perché credo davvero molto in questo progetto e credo sia sulla bontà del progetto sia sulla bontà e sulla esperienza sull'umanità e sull'etica delle persone che ne fanno parte quindi ho fatto delle scelte approfondite ho voluto capire bene sin dall'inizio sin dalla realtà Elior e perché il tutto è nato ormai diversi anni fa quando ancora non c'era la realtà Elior come cliente quindi ho proprio scelto fra varie opportunità di aziende e ho trovato che questa rispondesse a tutte le mie esigenze e quindi adesso c'è questa possibilità quindi di aderire come stava preannunciando Massimo anche al progetto internazionale che espande la modalità con cui operiamo in Italia in tutto il mondo quindi anche proprio la possibilità di acquistare oro di piani di accumulo in oro in qualsiasi parte del mondo e questo potrà essere possibile dal 4 di dicembre in questa fase invece c'è la possibilità per coloro che lo desiderano di entrare a far parte dei co-founder dei co-fondatori perché sono stati identificati quattro tipi diversi di pacchetti a seconda della quota di acquisto e ribadisco con questi pacchetti non si acquista oro ma si acquista la possibilità a vita di partecipare in percentuali diverse a seconda del pacchetto acquistato al fatturato mondiale Exelior e se me lo permetti Massimo se me lo permettete vorrei scendere un pochino più nel dettaglio di che cosa è il fatturato perché magari è un dato potrebbe essere una voce astratta nella realtà il fatturato mondiale Exelior così come lo è il fatturato Elior perché sostanzialmente Exelior è una realtà internazionale che replica e duplica la realtà nazionale quindi siccome da parte di tanti gold advisor che operano come me in Italia c'era molto spesso la richiesta di poter acquistare a livello internazionale i nostri prodotti ma non c'era la struttura perché noi abbiamo rilevato il banco metallo italiano per cui questo ci precludeva di potere appunto vendere i nostri prodotti in tutto il mondo e che quindi hanno hanno ormai erano anni che stavano lavorando a questo progetto internazionale che ovviamente ha bisogno di particolari cure a livello di legislazione insomma c'è tanto c'è stato tanto da studiare e quindi sostanzialmente hanno deciso finalmente di poterlo inaugurare quindi il fatturato sia che si parli di Exelior sia che si parli di Elior non è altro che la sommatoria prendiamo il fatturato mensile ma che poi ovviamente viene riportato a livello annuale è la sommatoria delle quote doc che vengono versate per i piani di accumulo cos'è la quota doc così scendo ancora più nel dettaglio la quota doc è un 10 per cento del montante finale facciamo un esempio proprio per parlare di numeri così sono ancora più chiara ipotizziamo che voi decidiate di fare un piano di accumulo di 200 euro mensili per 10 anni quindi alla fine del periodo voi avendo fatto i vari versamenti con 200 euro cioè scambio di euro più che altro in moneta oro quindi vediamola così perché questo è di questo si tratta quindi scambiamo una moneta che non vale nulla in oro quindi qualsiasi tipo di moneta fiat e al termine dei 10 anni avrete accumulato 24 mila euro in oro ok ovviamente poi sarà rivalutato e quant'altro però semplifichiamo il calcolo facciamo finta che siano 24 mila euro quindi per accendere il piano di accumulo e per sostenere le spese amministrative che poi vi verranno restituite in oro al termine del piano questo è importante voi verserete una quota che è pari al 10 per cento del montante finale quindi 2400 euro nella fattispecie ok quindi questi 2400 euro che rappresentano il 10 per cento del della sommatoria dei versamenti che avrete fatto in oro e che vi verranno restituiti in oro al termine del periodo vedetelo come una sorta anche di cauzione che non perdete quindi al regolare compimento del piano di accumulo rappresentano il fatturato aziendale quindi vi posso dire che Elior fino ad oggi in 30 mesi di attività in Italia ha accumulato un fatturato in queste modalità che vi ho appena detto riferito di 7 milioni di euro quindi per diciamo che cosa hanno immaginato e che cosa hanno prospettato ovviamente hanno fatto degli studi che poi hanno condiviso in qualità di co-founder insieme agli altri fondatori sostanzialmente hanno ridotto il fatturato mensile ipotizzandolo a 100 mila euro il fatturato italiano anche se in realtà monta 150 mila euro di media lo hanno prospettato per 10 volte tanto quindi ampliandolo nella panoramica internazionale e quindi non dico che avverrà già il primo mese di dicembre che arriveremo a un milione di fatturato mensile anche perché sono delle proiezioni quindi nessuno vi può dare garanzia che questo accada ma magari ipotizziamo dopo un anno o due è plausibile che il fatturato a livello internazionale arrivi a un milione di euro mensile questo tanto per iniziare quindi ecco per spiegarvi un attimino di più e meglio il concetto del fatturato ci tenevo perché a volte rimane una cosa un po' astratta quindi con il pack sharing pack non si partecipa all'utile perché all'utile sociale come Massimo mi insegna magari passano degli anni prima che l'azienda vada inutile ma si comincia subito a partecipare al fatturato che il fatturato ovviamente dall'otto di dicembre già ci sarà qualcuno che acquisterà i nostri piani di accumulo quindi già da gennaio voi potrete se aderirete a questa possibilità prenderete già i vostri primi frutti quindi adesso non mi soffermo nella specifica sulla tipologia degli sharing pack a disposizione perché ce ne sono vari quello più quello basico viene per un investimento di 750 franchi svizzeri quindi da l'1% del fatturato mondiale Xcelior ovviamente questo 1% va diviso per la totalità degli sharing pack in questo caso sono 800 insomma per essere chiara ma magari vi faccio una simulazione su quello che è già andato a ruba e stamane vedevo che si è liberato un unico pacchetto gold che è quello che in assoluto è stato razziato è andato a ruba quindi non arriverà neanche dopo il 4 di dicembre è il pacchetto sharing pack gold che assicura il 4% del fatturato mondiale Xcelior vita natural durante che possiamo poi cedere anche ai nostri eredi quindi questo è importante perché rientra nel nostro asse ereditario questo sharing pack ha un costo di 6.000 franchi svizzeri sono 6.400 euro circa c'erano 100 pacchetti disponibili stamane ho visto che ne è rimasto uno quindi probabilmente se ne è liberato un altro perché ieri li avevo terminati con due clienti e sostanzialmente vi faccio un calcolo anche in questo caso ipotizzando un fatturato mensile di un milione di euro Xcelior avremmo il 4% quindi sono 40.000 euro diviso 100 che sono i pacchetti sharing pack gold si avrebbero 400 euro mensili ecco tanto per essere pratica poi per ciò che riguarda la fiscalità quindi questo è importante ve ne voglio parlare voi come vi dicevo non state acquistando oro ma state acquistando la possibilità di partecipare ad un fatturato aziendale di questa azienda ok che in questa modalità è del tutto innovativa perché oltre alla possibilità di acquistare i nostri piani di accumulo con bonifico o con carta di credito sarà possibile acquistarli anche attraverso l'utilizzo di criptovalute quindi questo è un altro aspetto assolutamente molto interessante quindi potremo essere pagati per coloro che acquisteranno sharing pack di qualsiasi natura e magari decideranno di sviluppare la propria attività perché noi sottoscriviamo un mandato di collaborazione quindi non è cioè è inquadrato come mandato di collaborazione e percepirete delle provvigioni dalla Svizzera quindi questo è l'inquadramento fiscale e per la fiscalità vi invito a seconda del paese dove risiedete ad interpellare il vostro fiscalista perché ogni situazione a sé per esempio parlo del mio caso io ho acquistato molti pacchetti come fondatrice per cui io sto studiando anche una modalità per poter non farmeli tassare in Italia quindi questa è la mia strada ma chi magari compra un pacchetto o due potrebbe rientrare diciamo in un aspetto forfettario quindi fare una fattura forfettaria però ribadisco entrate nel merito con il vostro fiscalista questo è molto molto importante e vi dicevo c'è la possibilità di collaborare quindi voi firmerete un mandato di collaborazione con Exelior che non vi obbliga però a sviluppare la rete né a vendere i prodotti e certo noi come azienda valutando sempre in un'ottica il tutto di cooperazione perché questo è il senso della nostra attività cioè questa è l'etica alla base sarebbe auspicabile che lo faceste ma non è obbligatorio quindi voi percepirete provvigioni da società svizzera perché questa società la New Era, Gold Chain il nome della società che utilizza il marchio Exelior a livello internazionale vi liquiderà provvigioni quindi torno su questo aspetto che potranno essere liquidate anche in criptovalute e voi potrete acquistare questi pacchetti anche in criptovalute e stanno studiando questo l'ho già accennato a Massimo non è ancora operativa questa possibilità ma stanno studiando la possibilità di liquidarci mese per mese o quando vorrete voi perché voi potrete fare anche una fattura all'anno e ricevere i vostri proventi che vanno in un wallet ma non è un wallet come dire ipotetico ma sono proprio soldi messi da una parte quindi potrete essere liquidati anche in oro ma questo ancora non è possibile quindi come fa Auvesta se non erro Massimo correggimi se sbaglio in questo discorso quindi gli sharing pack stanno avendo un grande successo noi ne siamo molto molto felici di questa cosa perché ripeto crediamo molto in questo progetto e che dire penso di avervi già detto varie cose quindi voi considerate vedete la possibilità Xavier sia per diversificare per acquisire un diritto di una rendita vita che partecipa al fatturato mondiale di questa azienda ma se lo vorrete potrete vederlo anche come una modalità di sviluppo di rete e magari perché no di passaggio di favore a qualcuno che non conosce una realtà seria e solida come questa e magari desidera accumulare oro mese per mese e quindi potrete avere anche quella forma di guadagno diretta e indiretta quindi reddito passivo e reddito attivo e tra l'altro poi Massimo vi ha già messo nel canale nei suoi canali la possibilità di vedere i video che sono la registrazione della fase di diciamo di lancio quindi potrete visionare i video tenuti dai nostri tre direttori commerciali e quindi ovviamente poi io sono a disposizione dopo la visione dei video se per coloro che sono interessati a darvi ulteriori informazioni ecco io spero di essere stata chiara e insomma sono assolutamente a vostra disposizione se ne abbiate bisogno benissimo Claudio mi sentite? buongiorno sì sì Massimo ti sentiamo grazie mi sentite? sì sì ecco io ho perso scusate ho perso gli ultimi 7-8 minuti perché è saltata la linea avete domande per Claudia per caso? allora se è tutto chiaro devo fare questa felicitazione come sapete nelle mie cose sono molto perché secondo me quando si chiedono soldi o chiedono comunque si dà una sorta di consulenza bisogna essere sempre molto cauti nelle raccomandazioni suggerimenti che si danno alle persone che ci seguono i soldi come dico qui per battuta lo dico qui ma lo dico qui per una ragione particolare però lasciamo perdere i soldi non cadono dal cielo anche se magari hanno solo un valore nominale non hanno valore intrinseco è duro a guadagnarli allora ho seguito tutto il lancio che hanno fatto e dal punto di vista del marketing io avrei fatto delle cose diverse però non è la mia opinione personale e vale quello che vale la cosa importante è che l'operazione che hanno fatto è andata bene tutti i gold tax sono stati venduti e quindi adesso possiamo vedere a questa opzione questa alternativa di investimenti in oro con animo più tranquillo diciamo così quindi mentre prima aveva appunto un atteggiamento un attimino di attesa adesso posso dire possiamo procedere io stesso comprerò un silver pact nonostante qui sia nelle spese perché proprio eri l'altro sono andato a Dodoma che è la capitale della Tanzania a ritirare il certificato per la fondazione e quindi sono proprio nelle spese è chiaro no? è praticamente una fondazione è a tutti gli effetti come se fosse una società non cambia assolutamente niente però questo ovviamente a questo punto per me è sempre importante dare l'esempio i gold pact sono finiti va bene poi metterò in contatto con Claudia sicuramente prenderò un silver pact e invito tutti coloro che mi seguono clienti vecchi e nuovi di a Vesta mi hanno chiesto ripetutamente nel corso di questi anni se io avevo delle idee su come investire magari altri soldi che avevo a disposizione perché io non è che metto tutti i soldi nell'oro in linea di massima posso dirvi che uno che investe 50.000 euro in Ovesta ce ne ha almeno altri 100 se non altri 200 magari a disposizione o già investiti in azioni e cose di questo tipo quindi io mi sono dato da fare mi hanno guardato intorno però ho capito che l'unica possibilità di diversificazione è concreta con praticamente coefficienti di rischio 0 era quella di diversificare all'interno dell'oro del mercato dell'oro perché purtroppo tutte le altre operazioni sono state in contatto anche con un ragazzo che vende questi bot che compri c'investi poi loro comprano comprano per esempio orologi o d'altro d'altri oggetti e poi li rivendono sono bene o male tutte un'altra che una signora che è venuta anche qua a fare la residenza e che lei lavora con questa azienda di entertainment di giochi sapete i giochini quelli che ci sono nelle sali del gioco o anche sul stesso telefono anche quello è un mercato sicuramente in espansione questo ce l'ha detto ce l'hanno detto molto bene nei protocolli di Toronto nel capitolo 2 della trilogia dove il relatore dice nell'85 dice amplificheremo il settore dell'intrattenimento di dieci volte altre dieci volte adesso dall'85 quanti anni sono passati l'avranno raddoppiato forse 30 volte perché ormai è tutto intrattenimento di contenuti contenuti di informazione vera e reale c'è ben poco in giro anche sui canali alternativi purtroppo ecco quindi prima ho inserito la azeta metalli la azeta metalli è un'azienda comunque che vi permette di diversificare l'acquisto dell'oro perché sicuramente è il tipico banco metalli e lavora in maniera diversa da ovesta a ovesta è stata selezionata per il discorso famoso piano B e del triangolo che ricordo è perfettamente legale c'è nessun tipo di cose di cui dobbiamo temere poi sono arrivato al discorso dell'elio e del progetto internazionale dell'exelio quindi e purtroppo o e non ci sono tante altre alternative alternative io o perlomeno che io posso suggerire la gente vi vende tante cose discorsi 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 quando poi magari vai a vedere nel concreto è tutta fuffa e a me poi mi arrabbio perché mi fanno che perdere tempo e non c'è niente di garanzia no garanzia di questo proprio mercoledì scorso faccio un inciso veloce ho fatto anzi lunedì ho fatto l'intervento sulla rana libera e un signore che credo si chiami Mauro mi ha fatto la domanda sulle monete digitali no sul bitcoin diciamo ho cominciato a investire dal 2021 sul bitcoin sto facendo soldi allora io ho spiegato che alla fin fine gli ho detto ma le garanzie dove sono tutte queste monete digitali no tutto il bitcoin da che cosa sono garantite lo sapete da cosa sono garantite sono garantite da oro commodity asset di qualsiasi tipo sono garantite dal marketing ora il marketing si si voi chi mi seguo lo sa è un po' la mia specializzazione no va bene ora io volete che no che vi dica una cosa perché vi dovrei dire una cosa fuorviante su un argomento che è il mio argomento non la farei mai una cosa così però la realtà è questa quindi state bisogna stare imparare a stare lontano dai soldi facili quelli che ti promettono grandi risultati al mese di qui di là di su di giù e che non sono sostenuti da niente stare molto attenti a questa cosa perché le persone sono ripetate quando si promettono il 2-3% al mese sul reddito ma se scherza davvero non esistono queste cose qui nella realtà del mondo moderno una volta negli anni 80 si arrivava le aziende arrivavano a dare anche 35 o 30% di interessi c'erano gli interessi gli interessi no? sul sul balcari del 18 20 massimo perdonami ti sentiamo male non so se sono soltanto io si sente a scatti mi sentite? esatto si sentiva a scatti ti sentivamo a scatti massimo allora escheri ecco Duilo lo sa sono gli illuminati che mi fanno questi scherzettini qui che non vogliono non vogliono che parli di tanto capito? nessun problema e quindi quindi insomma io ho state steveva stare attenti ai soldi facili tutti quelli che vi purtroppo anche questa è una cosa abusata di marketing di vendita perché non so come funziona la vendita se io cominciassi a dire eh anche quando per dire però vesta vesta qui io non l'ho mai fatto io vi ho sempre detto la verità e questo si ritorna al discorso di questa proposta che io ho fatto un po' di tempo fa dell'intesa etica però è una strada dura difficile perché poi ti trovi a scontrarti con questi venditori di fuffa e la gente è abituata siccome oggi siamo abituati ad essere intrattenuti siamo più propensi a comprare presso questi magari questi soggetti qui piuttosto che sedersi ragionare in maniera logica concreta e pratica e magari parlando con me o parlando con qualche d'un altro naturalmente perché ci saranno anche altre persone nel loro che lavorano a livello professionale in Italia ma non massimo scusa si sente sempre a pratti perdonami poi tipicamente fanno il lavoro del banco metalli come l'azienda metalli va lì lo compri e te lo porti a casa massimo allora considerazione della poca qualità della linea direi di chiudere qua oggi c'è qualcuno per caso che abbiamo fatto l'intervento che dovevamo fare per quello che riguarda Diego l'articolo che mi avevi mandato te lo analizziamo piuttosto interessante lo analizziamo la prossima settimana prossimo sabato va bene avete domande in chiusura ecco per avere maggiori informazioni potete contattare se avete il numero direttamente Claudia oppure contattarmi me vi giro il numero di Claudia non voglio dire stiamo tranquilli perché c'è tempo però bisogna muoversi io ho risposto in definitiva anche con questa iniziativa a quello che mi richiedeva al mercato ora però posso devo vedere azioni perché io come vedete continuo a muovermi però anche voi poi a un certo punto anche perché il silver si parla di 3.000 franchi capite che non è un investimento chi è che non ha 3.000 franchi in banca lì a non fare nulla via ecco sinceramente bisogna prendere almeno 3 o 4 beh comunque ognuno poi è libero ovviamente di fare ciò che vuole se non ci sono domande chiuderei qua oggi capito tutto benissimo allora io naturalmente ringrazio Claudia della disponibilità è sempre un piacere Claudio e lavorare con te grazie altrettanto per me Massimo grazie ci riaggiorniamo sicuramente a dicembre magari facciamo un altro intervento anche prima di Natale insomma ci teniamo in contatto sicuramente e io auguro un buon fine settimana a tutti alla prossima grazie ciao grazie buongiorno a tutti arrivederci grazie Massimo buongiorno ciao ciao grazie a te